Dopo la commemorazione, il dolore e il ricordo delle vittime con la fiaccolata che nella notte tra il 5 e il 6 aprile ha portato in città circa 20.000 persone, si torna a lavorare sul fronte della ricostruzione. A sollecitare la ripresa di un dibattito sulla riforma del codice degli appalti, vero ostacolo per la ricostruzione pubblica da un lato e la messa in sicurezza delle scuole dall'altro lato, è il presidente dell'ordine degli ingegneri dell'Aquila per Luigi Di Amicis. Dopo la pausa e la profonda riflessione, in occasione del decimo anniversario del sisma, spiega Di Amicis, scuole, ricostruzione pubblica e infrastrutture devono essere la priorità. Vanno snellite un po' le fasi di gara perché tra il momento in cui si decide di realizzare un'opera e il momento in cui viene candidalizzata un'opera passano due anni. Probabilmente c'è qualche inciampo di troppo in questo percorso, in questo procedimento, dovremmo renderlo più snello, dovremmo facilitare un attimino. E poi un altro lacciuolo enorme che abbiamo, sono sempre i ricorsi pendenti del secondo e dell'escluso, sia per quanto riguarda le gare di progettazione, ma ancora di più per quanto riguarda le gare per l'esecuzione. Subiamo continuamente degli stop dovuti al secondo arrivato che a suo avviso ritiene illegittime le forme che si sono seguite. Ma c'è ancora molto da fare sul recupero delle scuole dell'Aquila, non soltanto per quelle danneggiate e da ricostruire, ma anche le strutture riaperte all'indomani del terremoto. Le scuole vanno ricostruite, vanno ricostruite sicuramente. Oggi il panorama scolastico ed edilizia scolastica che abbiamo è che vi sono molti edifici temporanei, famosissimi USP, e invece vi sono altri istituti che sono rientrati in edifici in muratura, rientrati in edifici in muratura che sono stati rimessi in pristino a seguire il sisma proprio nell'estate del 2009 per riprendere le attività scolastiche fondamentali per non depoperare il territorio. Oggi però ci troviamo di fronte a due scenari, quindi quelli che sono i MUSP e hanno una sicurezza sismica al 100% evidentemente, mentre gli edifici in muratura dove la sicurezza sismica è sicuramente inferiore al 100%, in alcuni casi stiamo anche al 30%, al 20%. Dovremmo concentrare l'attenzione perché tutti quanti hanno il diritto di andare in scuole sicure, ma in primis penso che dovremmo concentrare l'attenzione su quelli che sono edifici in muratura, che sono più vulnerabili in caso di qualsiasi malaugurato evento sismico dovesse verificarsi.